ciao avevamo queste tre foglie momentaneamente le metto da parte le seleziono tutte e tre e le metto tutte quante in una nuova collection che chiamo foglie e la nascondo la rendo la disattivo e non la utilizzo sposto prima di tutto il cursore al centro e posso anche andare a nasconderlo come era all'inizio e creo un nuovo oggetto gris pencil vuoto per ricominciare a disegnare la cosa interessante di gris pencil è che sono oggetti di blender come tanti altri quindi posso usare anche per animare o comunque in tutte le situazioni le caratteristiche di blender che funzionano per le mesh guardate faccio di nuovo un disegno come avevo fatto prima mi trovo al fotogramma 24 non è qui che vorrei essere mi sposto di nuovo al primo e anche questo keyframe lo sposto esattamente qui per essere sicuro di disegnare fin dal fotogramma numero uno vado in draw mode e se prima avevo disegnato delle foglie adesso disegno qualcos'altro disegno un layer che posso appunto chiamare lines e poi anche qua lo rifaccio fills ho creato un oggetto gris pencil vuoto e quindi me li devo creare a mano ho solo questo materiale ma io utilizzerò la modalità con i colori e quindi i materiali non mi servono prendo un colore grigio piuttosto scuro e notate che ho creato una palette nuova l'avevo già creata anche prima e posso salvarmi dei colori con il tasto più e quindi adesso mi sono salvato questo questo era il primo col quale avevo disegnato le foglie ora disegno dei sassi ho sbagliato ero sul livello fils ricordatevi che con la scorciatoia un potete scegliere il materiale e con la scorciatoia y potete anche cambiare layer disegno come dicevo qualche sasso uno un po più grande un po più piccolo e ora con un altro colore che magari prelevo e metto sempre posso farlo anche un pochino più azzurro metto anche questo in palette per poterlo avere a disposizione vado a dipingere le zone più chiare facciamo anche un po d'erba li sto li sto disegnando come elementi separati quindi per disegnare dell'erba torno a un materiale che non abbia riempimento scelgo un colore che possa essere adatto per dell'erba aggiungo anche questo alla palette per tranquillità ink pen va bene però magari aumento il raggio anzi potrei utilizzare ink pen rough che è un po più vediamo sì e però eccolo qua scelgo questo colore qua faccio qualche ciuffo d'erba ho creato questi elementi e adesso li vado a separare esattamente come avevo fatto prima per le foglie però qui non c'è nessuna animazione per cui sarà più semplice per con un unico keyframe vado in in edit mode p selected strokes p selected strokes p selected strokes p selected strokes ecco qua adesso ho tutti questi elementi potrei anche rinominarli tutti quanti con ctrl f2 oggetti selezionati nuovo nome nuovo elementi ok adesso li ho tutti qua e posso anche loro metterli in una collection apposita collection elementi del terreno ecco anche qui ho un problema di origine e quindi per ognuno vado a cambiare l'origine quindi seleziono il primo metto il cursore che ho nascosto e mi serve di nuovo vediamo se si è posizionato lì non mi serve essere precisissimo set origin origin to free di cursor poi questo potrei usare maiuscolo r per ripetere l'ultima operazione maiuscolo r maiuscolo r adesso ognuno di essi ha il suo pivot quello che intendevo con il fatto che abbiamo a disposizione i classici elementi presenti in blender è che per esempio io potrei creare un piano eccolo qua tiro via la registrazione momentaneamente perché non vorrei creare animazioni con questo piano in questo momento anzi riporto il cursore all'origine e riporto il piano diciamo all'origine ingrandisco questo piano si trova un po troppo in alto lo porto giù e lo ingrandisco ulteriormente g y lo porto in maniera che ecco che sia qui a filo della telecamera adesso questo piano potrebbe essere il mio terreno gli creo un materiale abbiamo visto nella lezione con il gatto che si può usare un materiale di tipo emission e dargli un colore unico mi sposto anche in visualizzazione renderizzata tipo un colore di terreno e questo è una mesh qualsiasi di blender e quindi alle opzioni per esempio di particelle quindi io posso creare un nuovo sistema di particelle di tipo hair e all'improvviso appaiono tutte queste particelle sono mille potrei farne 100 sono lunghe quattro metri un metro facciamo e i segmenti di ogni particella non mi servono posso abbassare il numero di segmenti ma non è importante perché nella sezione render io posso dire invece di disegnarli come dei path di andare a disegnarli come oggetti e anzi da andare a disegnare come oggetti presi da una collection e qui posso definire quale collection quale quella degli elementi del terreno non li noto perché la scala è molto piccola se mettessi la scala 1 vedete sono apparsi sono piatti ma sono sul terreno tutti questi elementi se premo pick random prende degli oggetti dalla collection in maniera casuale e se premo anche object rotation adesso gli oggetti sono ruotati in una maniera diciamo che almeno è in piedi non è quella che corrisponde per aggiustare il tutto devo andare sotto opzioni avanzate e scegliere la rotazione e ora posso decidere di ruotarli oggetto sulla x perfetto e volendo con questo posso variare la rotazione però insomma avete capito che sono riuscito a far spuntare tutti questi elementi dal piano o ancora quelli originali ma li posso nascondere ed ecco quindi che sono apparsi tutti questi elementi sul terreno è qualcosa che si può tranquillamente fare normalmente con le mesh ma come vedete adesso l'ho fatto con gli oggetti grease pencil tra l'altro ho a disposizione anche il conteggio e quindi per esempio adesso di tutti questi elementi terreno li ripristino vediamo questa è tutta erba quindi queste tre una due e una tre sono le erbe e quindi contro le f2 nuovo nome erba in maniera da riconoscerle e questi contro le f2 sassi così anche se sono tutti nella collection elementi del terreno li riconosco e ora posso per esempio dire che di sassi del primo sasso 1 del secondo sasso in proporzione due del terzo anche due di erba 1 2 in maniera che ce ne siano di più di quest'altro potrebbero essere tre e in questo modo diciamo posso decidere la proporzione tra di loro se voglio molta erba devo solo alzare il numero di conteggi in tutte le mesh con scritto erba e ci sarà più erba che non sassi e questo tra l'altro vedete sono leggermente conficcati nel terreno proprio per dove ho messo l'origine degli oggetti se io li ripristino posso decidere con l'origine quanto devono essere piantati diciamo nel terreno quindi se io qui spostassi il cursore per esempio un po più giù qui eccolo tasto destro set origin origin to free di curso si spostano leggermente in alto e quindi questo diciamo decide quanto siano conficcati nel piano ecco che abbiamo usato una funzione normale di blender quella delle particelle per sparpagliare degli oggetti grease pencil e questo è un modo piuttosto interessante di riuscire a gestire facilmente le cose anche perché sto pochissimo ad aumentare il numero eventualmente a appunto a cambiare questi conteggi ma anche a cambiare la scala per esempio da fare tutto un po più piccolo e anche aggiungere delle variazioni casuali sulla scala quindi più alzo questo numero più ogni istanza del dell'erba dei sassi sarà diversa e quindi diciamo che ci sono tutte le opzioni che ovviamente dovete imparare in un normale corso di blender posso dare un po di randomizzazione sulle inclinazioni questi elementi non sono animati però potete facilmente animarli per esempio con la modalità di sculpt che abbiamo visto per le foglie possiamo andare ad animare l'erba volendo e quindi avere la sensazione del del vento che muove l'erba grazie e alla prossima